ah si ma tu spachi ma c'è uno, no, c'è uno che fa parkour tra le montagne grazie simone, grazie simone così si vogliamo devi dedicarvi a qualcosa metti in un galetti, vi prego e... questo mio nuovissimo video simone che tossisce mentre faccio la intro questa è una cosa che... oggi sono col papà ciao e siamo tornati di nuovo su world of tanks perchè lui sta a giocare solo a questo anzi nemmeno comunque oggi stiamo a fare una cosa assurda a dire poco assurda non so mai se qualcuno l'ha portato mai a dire poco matta infatti siamo su parigi in una uno contro uno e qua si spaccano anche le madri è la prima uno contro uno che facciamo tutti quanti ho scoperto ieri che bello pari dove è la tourifel no però ci vediamo la tourifel così almeno sappiamo dove andare eh ma si vede nella mapa mi sa eh eh lo so ci andiamo ci incontriamo lì eh non mi sparare se no ti vi si integro comunque io sono carico e facciamo un lino la Francia ma non è vero no non è vero cos'è? è lino francese ma se è veramente la mentata non è vero ma come è già che si gioca? se capi v brazzi oh ma non mi ricordo più come si va avanti è W ma no ma si ma è baccatissimo mi fa girare alla visuale ah ecco ha il colatore di femma a rara o no e adesso vedrai nel gameplay eh si ma non mi fa girare la visuale no aspetta sto facendo parkour un atto ah ma lo sei tu cos'era il cos'è questo io sono balluvre a volte ti vengo a prendersi che non ci capisco ma non se ne manco lo che sono aspetta un attimo che devo abbassare t'ho visto ahia cosa ho fatto male io sono girato ma tu mi vedi come sono girato no spiega che non vuole indietro arriva no arriva aspetta voglio farla in schillata questa no no mi credo ho sperato un colpo casissimo ma tu non sai io ho detto ma faccio un figo tanto ho vinto no e inizio a saltare da ho sperato un colpo casissimo c'era c'era una musica in cui tante di chiesa c'è stata eh si e copri quella ah ecco guarda non la vedevo c'era quella mia si si anch'io c'avevo davanti ma questa infamella lì il mio non avevo neanche iniziato a giocare e mi ho cremato già fa fumo ma anche il mio eh non è un bordello mio no no di nuovo la visuale perchè fa tanto sto facendo un giro in caldo mio guarda che bello posso fare le panoramiche tipo la human safari vuole ti dico che io sono ascolto un un unge spuglio eh no non mi vedrai mai non mi vedrai mai ma mi stai spingendo no allora sono caduto con un fesco ah sei caduto è interessante interessante ma non ci sei tu tu ma io ci sono sto incappi inchiappettando le macchine io non sei se non lo sei sono nei cantieri ci sono pure gli anziani che mi guardano aspetta dove ti sfuggere tipo tipo il divertimento per vecchi oh che bello no cos'è sta cosa no no prendo fuoco perchè perchè io sono sono naturi fel ma non c'è naturi fel ma come non c'è naturi fel ma si c'è ma tu non ci sei ma tu sei fatto in metà ma tu mi stai fregando eh come quella volta in cui dovevo cercare le cose sulla cartina credo ancora si si spiega si spiegaglielo allora in pratica noi elementi davvero i geni che siamo abbiamo inventato un gioco che in pratica nella nostra classe c'è una cartina enorme magari facciamo anche le madri no beh si però sai per dare un po' di siamo eh un po' di eh un po' di ehm cerca di fero splendido vai e continua ah ecco ti ho visto ti ho visto no 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 perchè sei esploso sei esploso ah tu hai visto questo hai visto si ha fame io mi sto spostando oh no ma tu mi hai visto sei infame non ti ho visto non ti ho visto ma stai sparando te l'hai fatta no 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 infame no 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 io sto andando sulla senna sto andando ah ma quella tu non ti dicevi qui c'è una tribuna aia ma io ti ho beccato non ti ha fatto dare che fanno eh se mi rinca la mano è troppo no no non posso che bello il suo locale come si chiama basti burmetti vabbè il piattino è anche giunta una certa che l'asima du spaghi poi io ho usato cosa che si muoveva ma c'è una musichetta epica un attimo ok conta fino a dieci no no hai fame no cinque no 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 ma sei infame eh ci vediamo la tu rifelle eh no hai fame si sulle steppe asiatiche del nord america eh 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 ma chi ma chi eccolo che arriva in testa ti arriva in testa è questo boom boom poi facciamo una scommessa se questa chieda vinco io l'ultima partita facciamo una partita vera e tu scrivi nella chat anzi tu dici a voce quello che ti ricordi dire io tipo una challenge come non ti ho beccato ti hai beccato no non ti ho beccato no ti ho mancato oddio quanto no no vai fredda no ti continua a mancare si si no questa questa è critica eh tu stai sparando alla casa no 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 riesco a mirare no ma che z'è sto scavando spara no si no ma non ti vergogna con me si si non riusciva a mirare ho detto mo le vado incontro a sti infamello eh e chi è che deve ripetere adesso ma eh eh questa qua è la musica trionfale non i lini di chiesa è caro no aspetta Simo Simo aspetta devi dedicarmi qualcosa è una poesia lungaletta ti prego ma cosa vai Simo battaglia normale dai Simo Simo tu sei bravo a conquistare le aspetta devo entrare tipo oh Simo guarda guarda 3 2 1 via è certo ti sto portando con me dai mi hai fatto pure danno come ho dato danno si lo giuro guarda ci sono gli infami lassù qua ti vedi ci sono gli infami lì che li agguati che che manco gli indigeni con le lance no siamo corri 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 tantissimo si ma aspetta 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 sto facendo la mossa della vita eh tu lo vedrai nel gameplay sta cosa perchè sto succedendo qualcosa di epico è sparito il nemico dove è finito dove è finito ma veramente l'hai visto anche tu no no ahhh ahhh e vieni dietro per starlo aspetta no mi stanno sparando e le sto schivando ma lo sto morto ah Simo a 100.000 like vi portiamo un episodio dove noi personalizziamo dei carri armati e facciamo la gara a chi lo fa più trash dai si io faccio il mio carri armato con voi e lui mi invia lo screen a me e tipo voi sarete voi a giudicare chi ha fatto i carri armati più trash questo a quanto? a 100.000 like guarda che bellissimo Simo c'è questo qua solo solo a sinistra mia guardalo dove? vabbè è tristissimo when I see you again ho speso un attimo che no è morto quello no non puoi morire sei morto? ti venga addosso ti venga addosso grande hai girato aspetta sei morto la verticale Simo Simo la verticale spostati la spesa no no eh ho visto l'ho visto l'ho visto c'è dei boschi avevo letto bello lo scavole quanta vita ho scusa ma dove? ma dove hai visto? sto qui quanta vita ho boom sei morto no non si credo guarda quello che è bello Daisy guarda quello che è bello eh ti piace Daisy re ma Simo ci sono siete una coppia bellissima voi Daisy uniti per la uniti per la vita uno protegge l'altro ma c'è uno no si ma c'è uno che fa parkour tra le montagne è morto proprio tu deciso? no allora c'era il mio carro armato che ha iniziato a fare il 360 è piccolissimo quello si sta mappi ora è vero questo capicino è gv quel tempo è un topo ma lo puliziamo questo dai 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 inseguiamo le spuole aspetta città io lo chiedo davanti vai , tu per dire tu da dietro vai 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 tu tienilo eh fissi 거�erno 3 fa 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 scappiamo scappiamo no si sta ribellando si sta ribellando inseguelo inseguo pigliatelo pigliatelo no Simo no no non essere infame si è fermato Simo vai 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 valli del male mi sto su della vita infame no ma cos'è sta lotta tra di voi guarda 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 si ma io mi sono si posso usare l'aceto vocale infamissimo a 3% quello guys in base in base guys quanto hai diviso grazie simone grazie simone così ti vogliamo guys in base in base dangerous quicli vedi quicli ma sono un ucciso 1 troppo forte non ho fatto danno non so siamo troppo forte tu dico io grande simone guys we win ancora uno ancora uno dov'è infame e dai dai sono davanti sono davanti lo faccio io lo faccio io lo faccio io lo faccio io no tardissimo io io non ci sono io si 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 grande l'ho preso no mi stanno uccidendo mi stanno uccidendo no che danno è che danno è ma quanto malato questo si è morto tantissimo non sono un po' tipo 90 di vita ecco non siamo un buon siamo un su morto siamo un su morto 4% se mi fottono la kill siamo in preco come se non ci fosse un domani no ucciso boom poi arriva poi arriva la sordità cosa oddio non ci sono altro non ci sono altro due kill tu stai morendo no sono morto perché sono morto ecco speriamo che questo video sia piaciuto invitiamo a lasciare 100.000 like entro la mezzanotte 100.000 like entro mezzanotte per il prossimo video noi ci ribecchiamo a domani bella ragazzi 1 2 3